Per la decima giornata del campionato di eccellenza toscana Girone B il Valentino Mazzola ospita, ma non in cerchiaia la Castiglionese. Teatro dell'incontro è il Gino Manni di Colle Valdelza. Batte il calcio inizio proprio la squadra bianco celeste oggi in maglia nera che sarà protagonista sin dai primissimi minuti della partita. Al quarto minuto Svetta Gucci sul calcio d'angolo di Camilli. La palla sorvola di poco la traversa e termina sul fondo. Al nono minuto ancora Mazzola in avanti. Buamed cerca Borri, interviene Menchetti che stoppa male il pallone. Glielo soffia Geraci che prova a calciare in porta. Il pallone non si abbassa a sufficienza. Balli agguanta ancora bianco celeste. Sempre da calcio d'angolo ancora Camilli. Questa volta colpisce Geraci. Balli non è precisissimo in due tempi. Riesce ad impedire che il pallone varchi la linea di porta. E' sempre la squadra di Ghizzani a fare la partita. In avanti Borri serve Geraci che vede l'arrivo da dietro di Buamed. Il pallone a centro area ancora a cercare Borri. Viene deviata la sfera quasi sul palo. Balli si salva ancora una volta in calcio d'angolo. E proprio dal calcio d'angolo Balli smanaccia il pallone che esce dall'area di rigore dalla parte opposta. Il primo arrivare sul pallone è Campatelli che dà uno sguardo al centro. Mette il pallone sulla testa di Gucci che si vede il pallone respingere da Balli in due tempi. La Castiglionese prova a venire in avanti. Siamo al ventunesimo minuto. Viciani cerca la conclusione dalla lunga distanza. La palla è altissima sopra la traversa. Dall'ottavo calcio d'angolo solo nel primo tempo per il Mazzola nasce l'occasione migliore per gli ospiti. Doca interviene sul primo palo e poi fa partire questo contropiede. Tre contro due. L'ex giocatore dell'assa Taverna si porta fino al limite dell'area. Pecca un po' di egoismo. Calcia in porta. Fontanelli si allunga e devia il pallone in calcio d'angolo. Occasione dunque migliore per la Castiglionese ma c'è solo Mazzola in campo. Geraci ancora lui in chiusura di rifrazione. Prova a cercare la porta anche lui dalla tre quarti. E al quarantacinquesimo pochi secondi prima della segnalazione del recupero il Mazzola passa in vantaggio. Calcio di punizione del solito Camilli. Sponda di Campatelli. Sottoporta interviene Gucci con il destro che scaramenta la palla sotto la traversa per il vantaggio del Mazzola. Proprio in chiusura di prima frazione secondo gol in campionato per il difensore Federico Gucci che porta avanti la squadra bianco celeste in questo anticipo del sabato. La ripresa si apre con il Mazzola sempre più arrembante. Minuto 60. Burri un grandissimo movimento. Lo fa liberare dell'avversario sulla corsia di sinistra. Si presenta tu per tu con Balli. Il tiro ad incrociare. La palla colpisce in pieno la traversa. Torna in campo. E poi Gucci non riesce a trovare l'appuntamento con la doppietta personale. Scivola al momento della conclusione. Balli blocca. Prova a reagire la Castiglionese. Calcio di punizione di Bezziccheri. La palla è troppo alta per impensierire Fontanelli. Castiglionese quest'oggi che si vede pochissimo ma soprattutto sui calci piazzati. Da un calcio d'angolo la palla arriva sul secondo palo. Viene rimessa in avanti per Parisi che lascia partire un tiro cross pericolosissimo. Smanacciato da Fontanelli. Il pallone termina in fallo laterale dalla parte opposta. La Castiglionese prova a buttarsi in avanti ma si scopre al contropiede. Avversario è Zanai che recupera il pallone 1 contro 2 con Geraci. Viene servito l'attaccante in maglia numero 9 che però si lascia ipnotizzare dall'estremo difensore in maglia viola. E la palla viene allontanata dalla difesa. La Castiglionese prova a cingere da sedio l'area di rigore del Mazzola. Un pallone messo dentro. Falomi non arriva con la deviazione. Risca di ingannare Fontanelli. Il portiere è bravo a smanacciare il pallone che poi termina in fallo di fondo. Ancora Castiglionese. Un disimpegno errato della difesa del Mazzola favorisce Falomi che poi serve Parisi che cerca il mancino che non può impenserire Fontanelli che blocca il pallone. 89 minuti sul cronometro. Ancora Geraci che vuole assolutamente la marcatura personale. Si libera benissimo di tre avversari. Poi il pallone di resta troppo sotto il piede e la conclusione è strozzata. Dopo cinque minuti di recupero il signore Giannini di Ponte d'Era pone fine alla contesa con il triplice fischio. I bianco celesti del Valentino Mazzola alzano le braccia al cielo e tornano alla vittoria. Dopo tre giornate lo fanno nel migliore dei modi sconfiggendo per 1-0 la seconda forza del campionato. E sul terzo finale Valentino Mazzola 1-0. Castiglionese 0. Castiglionese 0.